Una grande festa partecipata e affettuosa. Questa è stata l'inaugurazione della casa di San Giovanni in Loffa, appartenente alla diocesi e data in comodato all'azione cattolica. La casa, dopo un anno e mezzo di lavori, è stata completamente ristrutturata per le esigenze di ragazzi, gruppi e famiglie. Proprio San Giovanni è la storia della diocesi, è una delle case, uno dei luoghi che hanno fatto la storia della diocesi e abbiamo voluto, in un momento di difficoltà e di costruzione di situazione della casa, comunque investire tutto quello che avevamo a disposizione per poterla far continuare a vivere, avere una nuova vita, una nuova storia. Completamente nuova la raccolta chiesetta interna, le misure di sicurezza e i pannelli solari sul tetto. Il costo della ristrutturazione, 1.600.000 euro, è stato sostenuto da Azione Cattolica, Diocesi, Regione, Fondazione Cari Verona e Banca Popolare. Tra i presenti, bambini dell'ACR e volti storici dell'associazione. Testimone del passaggio di generazioni di veronesi, questo luogo continuerà a raccogliere bambini, giovani e adulti in cerca di formazione. La casa l'abbiamo rivoluzionata, è rimasto in piedi lo scheletro, abbiamo rivoluzionato i percorsi, abbiamo creato nuovi ambienti, abbiamo fatto delle sale e riunioni che prima non c'erano, delle camere con i bagni che prima non c'erano, per cui adesso, oltre ai ragazzi, la casa è per le famiglie, per i gruppi anche di persone un po' più adulte, diciamo che è proprio a 360 gradi. Ogni parrocchia dovrebbe avere una sezione dell'Azione Cattolica e sarebbe l'ideale se il Vice Presidente dei Consigli Pastorali fosse un uomo o una donna dell'ACI, ha sottolineato il Vescovo nell'Omelia, richiamando il ruolo dei laici di Azione Cattolica nel realizzare una comunione nella vita quotidiana ed ecclesiale, dalla famiglia alla politica alla parrocchia. Qual è l'importanza di una giornata come oggi, una casa ristrutturata per la formazione nella diocesi? Ma non è formazione generica, è formazione per l'Azione Cattolica, che non è un'associazione qualunque, ma è l'associazione a servizio della comunione di tutte le altre associazioni. È importante ricordare il valore che ha oggi l'Azione Cattolica come vocazione alla comunione ecclesiale. Nel piazzale le foto di due giovani, Alberto e Milena. La sala educatori è intitolata a loro, giovani testimoni di una fede gioiosa.